La reception quindi ha questo monolite in grass effetto nero opaco e io l'ho immaginato, l'ho proprio disegnata su carta con questa scrivania che l'abbraccia. Il risultato è notevole, vi faccio notare che non ci sono fissaggi il monolite è agganciato alla scrivania senza staffe né fissaggi, quindi tutto ha scomparsa, tutto molto bello. Ho studiato anche l'illuminazione con queste tre sospensioni effetto nero anodizzato opaco, tutta l'illuminazione degli uffici sarà con questa finitura nera anodizzata per dare volume e riempire anche gli spazi aerei. Ho pensato a una finitura per la reception che è questo effetto madreperlato, meraviglioso blu note che richiama il logo di Rete Casa, che è blu note, lo vedete lì sul loro logo.